È stabile, ma rimane in prognosi riservata il bimbo di 10 anni che ieri è stato investito da un'auto a Vittoria. Dopo essere stato ricoverato d'urgenza al Guzzardi, il ragazzino è stato trasferito nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Messina. Il bambino stava passeggiando in via Giovanni Verga nel quartiere Forcone a Vittoria. Ieri pomeriggio, quando un SUV Opel, guidato da una trentenne, lo ha investito. A causa dell'impatto, il bambino ha riportato un serio trauma toracico e cranico, oltre che alla frattura del bacino e la rottura della milza. I sanitari del 118 hanno trasportato il piccolo in codice rosso all'ospedale Guzzardi di Vittoria. In genna da poi è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per l'asportazione della milza e per trattare lo pneumotorace. Il bimbo si è aggravato e per questo è stato poi trasferito ai neri soccorso e nottata al Policlinico di Messina. Sul posto, gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'Opel Antara è stata posta sotto sequestra. Gli agenti della Municipale di Vittoria stanno cercando di vedere se ci sono immagini di videosorveglianza in zona che possano aiutare a capire quanto è successo. Verranno anche interrogati i testimoni oculari che hanno assistito all'impatto tra l'auto e il bambino e la donna che era alla guida dell'auto. Adesso quindi il piccolo è ricoverato in rianimazione pediatrica a Messina dove la prognosi resta riservata.